Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso in cui la protagonista è una famiglia. Dall'esterno questa sembra una famiglia normale, come tante. Ma la vita di una coppia sposata può nascondere molte più ombre di quanto si possa immaginare. Però, come al solito, andiamo con ordine. È il 22 dicembre del 2006 e mancano tre giorni a Natale, quando il dipartimento di polizia per Marion Township in Pennsylvania riceve una telefonata. Il detective Herbert Lee è nel suo ufficio. Tutto il dipartimento pensa già alle feste natalizze imminenti. Cercano quindi di completare velocemente gli ultimi impegni per staccare giusto qualche giorno e godersi il meritato riposo. Ma come aveva già detto, quel 22 dicembre il telefono squilla. Sono le 13.45 e un uomo dall'altro capo del telefono piange disperato. La telefonata arriva dal vicino soborgo di Wayne, quando un uomo racconta alla polizia di aver trovato sua moglie senza vita in casa. Gli agenti quindi corrono sul posto e trovano l'autore della chiamata, Raphael Rob, ad aspettarli fuori da casa, davanti al viaretto. L'uomo dice immediatamente agli agenti, mia moglie è a terra, in cucina, sono tornato a casa e l'ho trovata lì. Così le autorità entrano in casa per controllare la situazione. Vogliono assicurarsi prima di tutto che non ci sia nessun altro all'interno dell'abitazione. I detective così arrivano in cucina e trovano una donna a terra. C'è sangue su tutto il suo volto e attorno al suo corpo. La casa quindi ben presto diventa una scena del crimine. E controllata l'abitazione gli agenti tornano in cucina, dove il corpo di Ellen Rob giace scomposto, sul pavimento. La scena del crimine nella cucina di casa dei Rob è piena di sangue. Ci sono schizzi sulle pareti, sul pavimento, sul soffitto. Ellen Rob non è riconoscibile, il suo volto ha subito gravi lesioni. E gli indizi fanno pensare che al momento dell'aggressione stesse impacchettando dei regali di Natale. La vittima, Ellen Gregory Rob, ha 49 anni. Una cara amica di Ellen, Mary Beth Pidlow, racconta di aver conosciuto Ellen nel 1981. Le due sono entrambi giovani e si conoscono a lavoro, in un grande magazzino. Ellen ha solo 24 anni, così le due legano molto. Diventano amiche, passano molto tempo assieme, vanno insieme a fare shopping, a cena fuori, a ballare, a divertirsi. Arriviamo nel 1987. Ellen lavora ancora come commessa. Quando incontra un professore di economia della Ivy League, di nome Raphael Rob. Raphael cresce in Israele. Consegue la laurea presso l'università ebraica di Genosaremme. Successivamente emigra negli Stati Uniti per poter continuare i suoi studi universitari, ottenendo un dottorato di ricerca in economia nell'Università della California. Nel 1984, Raphael Rob diventa un professore dell'Università della Pennsylvania. Ebbene, Raphael corteggia Ellen in ogni modo. La fa sentire speciale, la porta fuori a cena, a teatro. Ed è così che i due si sposano, nel 1990. Nella vita dei Rob, nel 1994, arriva anche una bambina, di nome Olivia. Ovviamente, Olivia diventa il centro del mondo per Ellen. La donna è davvero una madre perfetta, sembra che tutto vada per il meglio, che stia bene con suo marito. Ellen è anche solita prendersi cura dei bambini del vicinato e delle sue amiche. Insomma, Ellen è una donna amorevole e generosa, che ama aiutare il prossimo. Ma, ecco che nel 2006, la vita familiare di Rob giunge a una conclusione terribile. I detective a questo punto interrogano il marito di Ellen, Raphael. L'uomo dice che quando è tornato a casa, ha trovato sua moglie in cucina. C'era sangue ovunque, quindi l'aveva toccata sul viso e, in questo modo, aveva capito che non era più in vita. Mentre Rob è lì che sta raccontando la sua versione, si sente male. Ha un mancamento, è in forti per ventilazione. Inoltre, lamenta un dolore alla spalla. Le autorità si preoccupano, pensano che possa trattarsi di un infarto. Quindi chiamano un'ambulanza e, in attesa che quest'ultima arrivi, altri detective all'interno della casa continuano ad analizzare la scena del crimine. La quantità attorno alla testa della vittima è davvero tanto, troppo. Sembra indicare che le abbiano sparate in volto da una distanza ravvicinata con un'arma abbastanza potente. Forse un fucile? In effetti, un'arma come un fucile distrugge sia carne che ossa e, se colpisce al volto, rende irriconoscibile la vittima. Peraltro pare che questo fucile le sia stato puntato al mento quando ha sparato. La domanda a questo punto sorge spontanea. Quella donna si è tolta la vita? È possibile, però c'è un problema. I detective non riescono a trovare l'arma del diritto. Ipotizzano quindi che si trova sotto il corpo della vittima, ma per ora quel corpo non possono spostarlo, perché devono attendere l'arrivo del medico legale. Mentre i detective continuano a cercare indizi nell'abitazione, in casa rientra Olivia, la figlia di Raphael e di Ellen. E mentre Raphael viene portato in ospedale per quel malore, Olivia viene affidata dei vicini. I detective quindi sono in attesa nel medico legale per capire se la donna si sia tolta la vita oppure no. Nel frattempo continuano a guardarsi intorno, ispezionano la casa e a quel punto si rendono conto di una cosa. Ed è strano che non se ne siano accorti prima. Ma in quella casa regna il caos. I detective faticano a camminare dalla porta d'ingresso alla cucina da quante cose ci sono ammassate. Ci sono scatole e scatole di cianfrusaglie, cose ammassate ovunque. Le condizioni di quella casa portano a far pensare ai detective che forse Ellen soffriva di depressione. Ma nonostante i sospetti di suicidio, i detective scoprano degli indizi che potrebbero indicare la presenza di un intruso. Infatti nella parte più bassa della casa c'è un locale lavanderia con una porta sull'esterno. La porta ha un pannello di vetro che in effetti è stato rotto dall'esterno. Inoltre nella camera di Raphael Rob al primo piano ci sono diversi cassetti aperti come se qualcuno ci abbiano vistato all'interno. Oltretutto le autorità trovano anche delle orme instanguinate che dalla cucina vanno al soggiorno della casa. Raphael Rob in effetti ha detto agli agenti che lui in casa ci è entrato. E in effetti con tutto il sangue presente in cucina e vicino al corpo di Ellen è possibile abbia lasciato proprio lui quelle impronte. Però quelle impronte sembrano delle impronte di stivali mentre Raphael quel giorno indossa delle scarpe eleganti. Giungono alle 4 del pomeriggio e finalmente sulla scena del crimine arriva il medico legale per portare il corpo di Ellen Rob all'obitorio. Così i detective hanno occasione di vedere cosa c'è sotto il corpo. Ed è così che scoprono che non c'è niente. Niente di niente. Ecco perché a questo punto le autorità sono sicure. Quello è un caso di omicidio non di suicidio. Ellen è stata uccisa nella sua cucina. Gli abitanti di questo piccolo soborgo di Philadelphia sono chiaramente sconvolti. Le persone che vivono nella zona infatti non sono assolutamente abituate a questi tipi di crimini. Quella è una zona tranquilla e passano anni interi senza che ci sia un omicidio. Gli investigatori a questo punto devono capire chi possa aver ucciso Ellen Rob e perché. In effetti hanno in mente già due ipotesi. O un ladro ha sorpreso Ellen mentre incartava i regali e l'ha uccisa oppure chiunque sia stato ha preso di mira proprio Ellen perché per qualche motivo vuole farla sparire. Poche ore dopo il ritrovamento di Ellen suo fratello Gary arriva alla casa per le vacanze di Natale. Vede i nastri della polizia che sono dappertutto quindi si dirige verso un agente e prova a chiedere cosa stia succedendo. A quel punto dei detective lo notano gli vanno incontro e gli danno la terribile notizia sua sorella non c'è più. Gary ovviamente è sconvolto non ci crede l'unica cosa che riesce a pensare è che Olivia non ha più una madre. Ma chi può aver commesso un atto del genere? Anche Gary non se lo sa spiegare. Agli occhi dell'autorità Gary è completamente sconvolto. Così gli chiedono se vuole seguirli in centrale per rilasciare una dichiarazione magari per parlare un po' di sua sorella. Nel frattempo il detective Chris Cacklans e il detective Albert Lee incontrano Raphael in ospedale. Infine quello di fargli delle domande per capire se la vittima avesse problemi con qualcuno o ancora problemi economici. Era già sposata? C'era qualcuno che voleva farle del male? Ellen è morta a causa di un colpo di arma da fuoco quindi i detective esaminano la mano di Raphael Robb in cerca di residui col fine di escluderlo dai sospettati. E in effetti il test dimostra che Raphael non ha sparato. Nonostante ciò i detective hanno parecchie domande per Raphael. Cosa aveva fatto quel giorno? E la signora Robb cosa stava facendo? Per caso aveva qualche impegno in particolare? I detective vogliono conoscere la cerchia di amici di Ellen che frequentava conoscendo i loro nomi avrebbero potuto convocarli tutti quanti in centrale per sentire anche le loro opinioni sulla situazione. Raphael dice chiaramente di aver visto sua moglie per l'ultima volta quella mattina prima di accompagnare sua figlia Olivia a scuola all'incirca per le 8 e 30. Ellen durante il pomeriggio attende l'arrivo di suo fratello Gary che avrebbe portato le due a Boston per le feste di Natale. Raphael le avrebbe poi raggiunte qualche giorno dopo. Quindi Raphael accompagna sua figlia a scuola e poi si dirige a lavoro facendo però qualche sosta. Si ferma quanto dice nella Chinatown di Philadelphia per andare da un fruttivendolo. In quel negozio ci sta per circa 20 minuti col fine di comprare della frutta per sua moglie e sua figlia. A quel punto Raphael si dirige nel suo ufficio per dare i voti ai suoi studenti per quel semestre. Raphael rimane nel suo ufficio a lavorare per un paio d'ore poi tornando a casa fa un'altra sosta si ferma ad un mini market di Philadelphia a Ovest per comprare una bibita. Quando rientra a casa scopre la moglie in quelle condizioni. Raphael dice all'autorità che secondo lui sua moglie è stata uccisa da un ladro d'appartamento. Intanto Raphael come già vi ho detto è nel pronto soccorso dell'ospedale. Passano in continuazione i detective vorrebbero fargli delle domande più specifiche ma decidono di farlo in un secondo momento per non metterlo sotto pressione. A questo punto le autorità cercano eventuali legami tra l'omicidio di Ellen e altri crimini della zona. Ci sono stati altri furti simili? Purtroppo non emerge nulla di significativo. Nella casa intanto gli investigatori trovano altri elementi che destano ulteriori sospetti. Fotografano la scena del crimine e misurano qualunque cosa. I detective quindi si trovano in casa e provano a ricostruire i passi del ladro. L'unica porta da cui può essere passato il ladro è quella del locale lavanderia sul retro della casa. L'intruso quindi rompe il vetro della porta infila la mano all'interno e gira la maniglia poi arriva fino in cucina vede Ellen le spara e se ne va senza rubare assolutamente niente. E già questo è un problema però c'è un'altra cosa che non va. Dov'è il vetro? È vero quella porta del locale lavanderia è rotta e ci sono diverse schegge di vetro per terra ma se qualcuno ci avesse camminato sopra le scarpe avrebbero dovuto trasportare frammenti di vetro dappertutto fino in cucina tra l'altro da un'analisi approfondita emerge che quel vetro non è mai stato calpestato questo fa pensare ai detective che quella porta non sia nemmeno mai stata aperta. C'è inoltre un'ennesima cosa che non torna l'auto di Ellen è a casa nel vialetto che io sappia normalmente i ladri non entrano in case che hanno l'auto posseggiata nel vialetto perché questo vuol dire una sola cosa c'è qualcuno in casa a dirla tutta basta andare sul rete della casa per notare Ellen in cucina attraverso la finestra impegnata a impacchettare i regali e pensandoci che senso ha a fare irruzione con una donna presente in cucina eppure bene in vista? Il sospetto più grande per gli investigatori è la brutalità dell'omicidio in quanto di solito i ladri scappano se la danno a gambe se vengono visti di conseguenza la domanda resta sempre la stessa perché uccidere in quel modo Ellen? I detective a questo punto sono convinti non hanno a che fare con una rapina finita male l'obiettivo in questo caso era proprio Ellen Robb i detective però devono ancora scoprire chi poteva volerla morta e come mai l'avevano presa di mira il furto sono convinti sia stato una messa in scena con lo scopo di insabbiare un omicidio e mentre Raffael è ancora in ospedale a fare i suoi controlli i detective convocano in centrale Mary Beth Pidlow ossia la migliore amica di Ellen i detective le dicono tranquillamente che stanno cercando informazioni su Ellen e Raffael ma soprattutto sul loro matrimonio era un matrimonio felice e sereno c'era qualche problema Mary Beth dice il detective che nei primi tempi Raffael era davvero un uomo molto molto generoso diciamo che si occupava un po' di tutto nella vita familiare ma col passare degli anni c'è stato un lentissimo e graduale cambiamento in lui infatti Raffael proprio grazie al suo lavoro ha viaggiato tantissimo praticamente ha girato tutto il mondo però a questo punto accade qualcosa perché dopo la nascita di Olivia Ellen e Raffael hanno deciso di andare in Israele per stare con la famiglia di Raffael in pratica la famiglia Rob si prende una specie di anno sabbatico quando sono tornati da quel viaggio c'è stato un cambiamento davvero evidente Raffael denigra Ellen in continuazione la critica per ogni minima cosa si lamenta di come tiene la casa se Ellen va a fare shopping compra qualcosa e Raffael non approva l'acquisto lui si riprende i soldi dal fondo pensione di lei in un'occasione è accaduto che la figlia di Mary Beth Lily è andata a casa di Olivia per dormire lì ma Ellen per presto l'ha riaccompagnata a casa dicendo a Mary Beth forse è meglio che Lily non rimanga stanotte a dormire Mary Beth ovviamente di prima acchita ha pensato che la colpa fosse di sua figlia ha fatto troppo baccano non si è comportata bene non ha fatto la brava però alla fine Lily dice a Mary Beth mamma ti giuro non facevano che gridare tutti in quella casa sono scoppiata a piangere ho chiesto di tornare qui Mary Beth dice chiaramente il detective che è consapevole che la coppia litigava spesso e volentieri avevano anche parecchie discussioni accese ma non aveva mai visto Raphael mettere un solo dito addosso ad Ellen ed Ellen d'altro canto non aveva mai detto di subire violenza fisica da Raphael mai e infatti non l'ha mai subita Ellen ahimè subisce un altro tipo di violenza ossia la violenza psicologica Raphael è crudele con lei e quindi l'umore di Ellen peggiora di giorno in giorno rischia addirittura di cadere in depressione e alla fine ci cade davvero in depressione dopo anni e anni vissuti in questa situazione però c'è da dire che nonostante tutto Ellen ha sempre detto di voler rimanere con Raphael perché era innamorata a quel tempo però l'amore è andata a scemare quindi Ellen e Raphael alla fine arrivano a stare insieme solo perché hanno messo al mondo una bambina Olivia i due continuano a non andare d'accordo infatti col tempo iniziano anche a dormire in camere separate e l'unica cosa che li tiene insieme è davvero loro figlia Olivia però nelle settimane precedenti alla morte di Ellen qualcosa era cambiato perché Ellen aveva chiamato la sua amica Mary Beth dicendole che non ne poteva più ne aveva abbastanza Ellen voleva un nuovo inizio voleva andarsene da quella casa e rincominciare da zero la fine del matrimonio di Ellen è una novità per il detective ma non per il fratello di Ellen Gary in un interrogatorio infatti Gary dice che è vero Raphael ed Ellen stavano divorziando però Raphael non ha fatto alcun cenno di questa situazione ai detective perché mai Gary però dice il detective guardate ve lo assicuro le cose stanno così io lo so bene le ho pagato pure l'avvocato per aiutarla quindi abbiamo un fatto Ellen stava davvero andando fino in fondo con il divorzio era davvero decisa ad iniziare una nuova vita Gary spiega che nell'ultimo anno di matrimonio Ellen si era quasi chiusa in se stessa dall'esterno quello poteva semplicemente sembrare un matrimonio difficile ma la verità è che il rapporto con Raphael ha distrutto ad Ellen la fiducia in se stessa e il suo spirito e infatti lei e Olivia si dovevano andare a Boston ma per restarci non per passare le vacanze di Natale Ellen aveva avviato le pratiche del divorzio proprio in quel periodo quindi la cosa insomma era imminente e tendenzialmente la situazione più pericolosa per qualcuno in una relazione domestica violenta è quando viene data una cattiva notizia mi spiego meglio ad esempio l'avvio delle pratiche del divorzio o l'avvio delle pratiche per la custodia dei figli sono momenti davvero critici i detective a questo punto hanno una sola domanda da fare a Gary crede che Raphael abbia fatto del male ad Ellen Gary risponde per me lui è l'unica persona che può averlo fatto dopo aver sentito l'amica e il fratello di Ellen i detective si concentrano su Raphael gli investigatori cominciano col controllare gli spostamenti di Raphael la mattina del crimine il 22 dicembre del 2006 Raphael è andato all'università della Pennsylvania per assegnare i voti e di questo la polizia ne la conferma verificano anche le autorità che al ritorno Raphael è stato al minimarket a comprare una bebita ma non trovano conferma della sua tappa al fruttivendolo i proprietari del negozio conoscono bene Raphael in quanto è un cliente abituale e sostengono che quel giorno non è passato a comprare nulla quindi Raphael Rob aveva mentito riguardo cose su cui una persona innocente non avrebbe motivo di mentire gli investigatori trovano questa incongruenza nella dichiarazione di Raphael ecco perché una volta dimesso dall'ospedale lo portano in centrale proprio per seguire quella pista e vedere se porta qualcosa la domanda che i detective si pongono è uno stimato professore può arrivare a commettere un'azione così tanto terribile? il detective guarda Raphael di fianco c'è suo collega e dice vorremmo riprendere la sua versione ci sono un paio di cose che non corrispondono siamo andati in tutti i posti in cui lei sostiene di essere stato il suo ufficio il mini market il fruttivendolo ed è proprio qui che abbiamo un problema dal fruttivendolo non l'ha vista nessuno neanche un testimone Raphael risponde con molta tranquillità beh agente non potete accusarmi di ciò che non ricordano le altre persone Raphael risponde con un tono neutro calmo senza pause né indugi i detective passano di nuovo a setaccio i movimenti del professore ed emergono altre lacune perché stando agli orari da lui indicati c'è un intervallo di un'ora che rimane scoperto Raphael risponde sentite ma forse ho passato un po' più tempo a casa forse ho calcolato a mare i tempi non potete aspettarvi che ricordi alla perfezione ogni singolo momento della giornata e così che Raphael sposta l'orario in cui è uscito di casa dalle otto e mezza alle nove e mezza e io mi chiedo una bambina inizia la scuola alle nove e mezza non che io sappia ma procediamo poi estende il tempo passato dal fruttivendolo da circa 20-30 minuti a 40 minuti insomma appare un po' che Raphael stia cercando di riscrivere la storia qui così i detective continuano Raphael sappiamo che lei ed Ellen stavate per divorziare le carte erano già pronte lei sarebbe partita quel giorno Raphael ribatte sicuro no non era ancora deciso nulla certo avevamo qualche problema lei era depressa non c'è molto altro Raphael ora dipinge le cose in modo ben più chiaro ora descrive la sua relazione come costellata di alti e bassi più bassi che alti ma è inutile nascondere l'evidenza Raphael ha volutamente evitato di dire che Ellen aveva da poco assunto un avvocato e che aveva in programma di andarsene da casa molto presto a questo punto i detective osservano Raphael e si rendono conto che hanno davanti un uomo che si ritiene molto ma molto più intelligente di loro così per movimentare un minimo la situazione un detective dice a Raphael sa Raphael da quando è qua non ha mai affermato di non aver ucciso Ellen sua moglie gli investigatori si aspettano un qualche tipo di reazione una qualsiasi reazione ma Raphael li guarda e poi li dice in modo molto misurato non ho ucciso mia moglie proprio durante questo interrogatorio i detective vengono interrotti da un collega i risultati dell'autopsia dimostrano che Ellen non è morta per un colpo d'arma da fuoco bensì è morta a causa di un corpo contundente ad Ellen purtroppo hanno fracassato la testa con un lungo oggetto cilindrico di metallo probabilmente un tubo quindi il medico non riesce neanche a stabilire con esattezza quanti colpi le siano stati inflitti dal momento in cui i detective fanno questa scoperta cambia tutto perché se Ellen non è morta per un colpo d'arma da fuoco la sua aggressione si trasforma in una furia omicida in un crimine passionale i detective una volta fatta questa scoperta rientrano nella stanza in cui stanno interrogando Raphael e incalzano dicendo beh abbiamo importanti novità dal medico legale ma non credo proprio che queste novità la sorprenderanno ormai a quanto pare a sua moglie non hanno sparato è stata picchiata a morte con un tubo di metallo Raphael continua anche in questo caso rispondere tranquillamente e dice non vedo come questo cambi qualcosa per me i detective continuano dicendo ma sa Raphael qui abbiamo una macchina della verità vogliamo usarla in modo da toglierci ogni dubbio Raphael risponde no non credo proprio che sarebbe il mio interesse la levitra ballante di Raphael l'ha messa in scena del furto e il rifiuto di sottoporsi al poligrafo aumentano i sospetti sul professore ma è evidente servono ben altre prove per incastrarlo le autorità devono trovare un modo per rafforzare l'accusa prima di arrestarlo sebbene ormai siano convinti che il colpevole sia proprio lui la mattina di sabato 23 dicembre 2006 funzionari della procura e gli investigatori si riuniscono per un confronto ed emerge che sono tutti quanti d'accordo Raphael è colpevole però mancano proprio importanti non c'è l'arma del delitto non c'è traccia di vestiti insanguinati nulla di tutto ciò così i detective riflettono su come possono migliorare l'accusa come possono raccogliere ulteriori prove per convincere la giuria della colpevolezza di Raphael uno degli aspetti più incongruenti della versione di Raphael è il come ha scoperto il corpo della moglie i detective quindi decidono di insistere su quello così le autorità chiedono a Raphael se è disposto ad accompagnarli a fare un giro nella sua casa per mostrargli tutti gli spostamenti che ha fatto quella mattina l'homo accetta immediatamente collabora forse Raphael non è colpevole ecco perché si comporta in questo modo ma se non è colpevole perché non accettare di fare il test del poligrafo Raphael racconta di essere ritornato a casa e di aver trovato sua moglie Ellen senza vita in cucina un detective gli chiede quando ha visto sua moglie così Raphael cosa ha pensato l'uomo risponde beh sono rimasto molto sorpreso come chiunque al mio posto insomma Raphael non dimostra la minima emozione non sembra gli importi granché della morte di sua moglie il detective insiste poi cosa ha fatto Raphael risponde mi sono chinato gli ho toccato il volto sporco di sangue poi ho preso la valigetta e sono andato in camera una volta arrivato in camera ho posato la valigetta a terra e sono andato a controllare la camera di Olivia per vedere se per caso era in casa il detective a questo punto guarda Raphael e gli dice ma mi scusi ma lei non ha chiamato la polizia dal cellulare dal dialetto fuori di casa Raphael ribatte sì sì esatto il detective quindi chiede e perché non ha chiamato da qui c'è un telefono o col telefono fisso che sta giù in cucina per la prima volta Raphael non ha la risposta pronta esita per qualche secondo poi risponde sì non saprei dire perché dopo aver controllato la camera di Olivia sono sceso giù sono passato di nuovo accanto al corpo di Ellen poi mi sono diretto al locale lavanderia sono uscito per andare in macchina recuperare il cellulare e chiamare la polizia quindi facendo una stima Raphael ha aspettato 5 o 6 minuti prima di chiamare effettivamente la polizia oltre al ritardo nel chiamare i soccorsi c'è un altro fatto strano Raphael non ha chiamato il pronto intervento o un numero di emergenza al detective non pare un comportamento normale per una persona che torna a casa e trova la moglie assassinata chiunque chiamerebbe il pronto intervento ma non Raphael perché? sostiene di non saperlo Raphael dice che forse era scioccato e così di primo impatto ha chiamato il numero che si legge sulle volanti della polizia i detective però continuano dicendo a Raphael sì ma lei il pronto intervento l'ha chiamato si ricorda? sei mesi fa perde il sangue dal naso lo ricorda? ai detective appare strano che abbia trattato una perdita di sangue dal naso come un'emergenza diversamente dal ritrovamento di sua moglie senza vita insomma tutto ciò è piuttosto insolito dopo quest'ultima visita con le autorità Raphael assume un avvocato e chiude ogni contatto con i detective così gli investigatori cercano di valutare come procedere Raphael non avrebbe confessato non ci sono testimoni e non c'è neanche l'arma del delitto in pratica non c'è nessuna prova concreta riconducibile a lui con l'unico sospettato chiuso a riccio le piste da seguire chiaramente diminuiscono sempre di più spesso le persone parlano si confidano con gli altri con informazioni compromettenti magari si sentono in colpa e raccontano a qualcuno ciò che ha fatto ma i detective in questo caso si ritrovano pochissime persone da interpellare perché Raphael in pratica non ha amici i detective infatti non riescono a trovare nessuno che frequenti Raphael abitualmente passano i giorni e Raphael riprende la sua vita normale tornando in quella casa con sua figlia Olivia e credo che questa cosa sia davvero raccapricciante come puoi tornare con tua figlia nella casa in cui è stata assassinata tua moglie no è assurdo insomma tutto lascia pensare che sia stato Raphael a far fuori sua moglie però gli investigatori sono ad un punto morto fino a quando non hanno un colpo di fortuna un fabbro infatti contatta la polizia dicendo che è stato chiamato da Raphael Rob per riparare un vetro per gli investigatori questa potrebbe essere un'occasione d'oro così il procuratore distrettuale Bruce Castor chiede all'agente Tony Spagnoletti di fingersi un operaio e anche un ex detenuto l'agente in incognito quindi Tony Spagnoletti si presenta a casa di Raphael per fare il lavoro i due iniziano a parlare e così Raphael si presenta Tony si gira ed esclama ah ma lei è quello della moglie Raphael risponde eh sì purtroppo sono io Tony continua a lavorare però continua anche a chiacchierare e dice ho letto sul giornale che hanno affidato il caso a Bruce Castor Raphael non capisce e risponde mi scusi Tony risponde guardi sarò sincero con lei Castor ha messo dentro anche me quel tipo mi crede è un osso duro in realtà io non ne so niente di vetri questa è la vita di un mio amico e io sono in libertà vigilata mi serviva un lavoro e il mio amico mi ha offerto questo Tony continua a parlare con Raphael non sta mai zitto e gli ripete spesso ascolti quel maledetto Castor non si fermerà mai non è uno che si arrende dovrebbe dargli qualcun altro da mordere ma in che senso? ebbene Tony dice a Raphael che avrebbe bisogno di un altro crimine eseguito con lo stesso metodo nella stessa zona in quanto Raphael era l'unico sospettato se non avesse fatto le cose in modo giusto lo avrebbero sbattuto in galera Tony a questo punto capisce di avere Raphael in pugno sta pendendo letteralmente dalle sue labbra tutto sta andando secondo i suoi piani Raphael ha la disperazione dipinta sul volto ed ha bisogno dell'aiuto di Tony perché sa che è spacciato Tony quindi gli dice non è una cosa da cui può uscire se non fa tutto ciò che le dico di fare Tony quindi inizialmente suggerisce di mettere in scena un altro furto poi però fa un'altra proposta a Raphael gli dice di fare una lista di oggetti che l'assassino ha preso quando è entrato in casa Raphael risponde ma qui non manca nulla Tony risponde oh sì che manca qualcosa Raphael gioielli contanti qualcosa che non ha notato subito deve sembrare un furto serio intanto le autorità rintracciano l'avvocato divorzista di Ellen Robb e con lui emerge anche un potenziale movente per l'omicidio infatti a quanto pare Ellen sapeva dell'esistenza di una parte dei soldi che possedevano lei e Raphael grazie al divorzio ha scoperto che ci sono delle somme importanti depositate all'estero qua e là in pratica Raphael aveva quasi due milioni di dollari nascosti e ad Ellen sarebbe toccata la metà quindi sapeva che avrebbe ricevuto un sostanzioso assegno una volta raggiunto un accordo di divorzio col marito il movente principale quindi è sicuramente il denaro con in mano un possibile movente la polizia ottiene un'ultima prova schiacciante infatti l'avvocato di Raphael chiama davvero per indicare una lista di beni rubati Tony a questo punto si sente molto soddisfatto ha fatto bene il suo lavoro e il fatto che Raphael aveva denunciato un furto di beni mai avvenuto probabilmente è stata la chiave per perseguirlo con assoluta certezza la polizia ora crede di sapere cosa sia successo il giorno in cui Raphael ha colpito sua moglie l'uomo esce di casa porta Olivia a scuola poi quando rientra in casa scoppia un litigio tra lui ed Ellen tra le questioni economiche e la fine del matrimonio probabilmente Raphael ha perso il controllo secondo i detettivi a questo punto Raphael prima di dirigersi a lavoro mette in scena un furto poi si dirige nella Chinatown di Filadelfia non per passare da un fruttivendolo ma per sbarazzarsi dei vestiti dell'arma e degli stivali che indossava da lì Raphael raggiunge il sufficio e ci rimane per circa due ore quando esce fa tappa ad un mini market non perché abbia sete ma perché deve costruirsi un alibi quindi torna a casa finge di trovare il corpo di sua moglie e chiama la polizia a questo punto i detettivi ottengono un mandato d'arresto per il professor Raphael Rob per l'omicidio di sua moglie Ellen Rob davanti a delle prove schiaccianti Raphael patteggia davanti all'accusa si dichiara colpevole di omicidio colposo e non volontario e ottiene una condanna a soli dieci anni di prigione questa condanna per molti è stato un insulto alla famiglia e a tutti quelli che amavano Ellen e io sono d'accordo con quest'idea decise a fargli pagare ciò che ha fatto i familiari di Ellen citano Raphael al tribunale civile la giuria ha stabilito un risarcimento record per la Pennsylvania si parla di oltre 224 milioni di dollari dopo la morte di Ellen la sua famiglia ha creato la Every Great Reason Foundation per sensibilizzare la popolazione sugli a**i domestici detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento conoscevate questo caso? se si che cosa ne pensate? detto questo ragazzi noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazzi grazie a tutti